Siamo Sara e Antonella, una coppia franco-italiana che si è sposata in Francia a marzo di quest'anno. Abbiamo chiesto la trascrizione del nostro matrimonio al sindaco Pisapia che l'ha accordata. Noi siamo qui all'Europarlamento per chiedere che queste trascrizioni diventino effettivamente valide in pieno e chiediamo all'Intergruppo LGBT in modo particolare i progetti e gli impegni che si incarica di attuare in nostro favore per risolvere i nostri problemi in Italia.